Oggi vi parlerò delle infedeltà coniugali. Come sapete l'articolo 143 del Codice Civile sancisce l'obbligo della fedeltà per le coppie legate al matrimonio. Indubbiamente è la prima causa delle separazioni e dei rivorsi l'infedeltà ed è il pane quotidiano di noi avvocati matrimonialisti. Le prove spesso si raccolgono attraverso il cellulare. Un cellulare lasciato per sbaglio in custodito, senza password oppure un computer non spento e quindi ancora con le chat visibili dall'altro coniuge o molto più semplicemente attraverso una confessione, attraverso una lettera anonima attraverso una comunicazione del coniuge tradito dall'amante del marito o della moglie quindi questo intreccio di situazioni oppure con gli investigatori. Ogni studio legale che si rispetti ha i propri investigatori i quali devono essere ovviamente autorizzati dal prefetto e possono raccogliere le prove soltanto in pubblica via. non si possono mettere cimici in casa, non si possono fare fotografie all'interno delle mura domestiche ma soltanto per la strada o per esempio quando uno dei due entra in un albergo si possono raccogliere anche prove testimoniali insomma l'infidelità è un qualcosa di particolarmente importante e sentito anche se la Cassazione fondamentalmente ha sancito negli ultimi anni dei principi molto importanti non tutte le infidelità coniugali sono sanzionate con l'addebito perché se il fedifrago riesce a dimostrare di aver commesso l'infidelità in un momento in cui il matrimonio era già in crisi il giudice non può addebitare la separazione quindi sta al tradito dimostrare che quella infidelità è stata di per sé la causa scatenante della crisi e questa è una delle questioni più dibattute da noi avvocati matrimonialisti in sede di separazione giudiziaria perché indubbiamente l'addebito soprattutto per il coniuge economicamente più debole produce delle conseguenze piuttosto importanti per esempio se un coniuge che dovrebbe ricevere l'assegno viene attinto dall'addebito perde il diritto all'assegno e perde anche il diritto all'eredità questo è molto importante perché tra l'altro esiste un'azione di risarcimento danni da infidelità coniugale quindi al di là della causa di separazione si può incarnerare anche un'altra causa una causa civile la causa del risarcimento ovviamente chi chiede risarcimento all'onere di provare l'entità dei danni che possono essere provati con delle consulenze psicologiche o con qualsiasi altro mezzo di prova perché il giudice deve eventualmente liquidare il danno provato non basta dire semplicemente che c'è stato un tradimento ovviamente se si tratta di persone particolarmente in vista anche il danno alla reputazione all'immagine, alla dignità, al decoro hanno una rilevanza importante a seconda appunto della visibilità della persona che è stata vittima di una infidelità coniugale quindi attenzione, non pensate minimamente che solo perché una buona parte della popolazione tradisce il coniuge poi quando si arrivi in tribunale tutto finisca con un nulla di fatto l'inferità resta ancora un illecito molto grave che va a rompere un rapporto fiduciario nella coppia e che può quindi determinare veramente una causa particolarmente complessa anzi due cause, la prima quella della separazione e come vi dicevo prima la causa del risarcimento dei danni pertanto sono cause che vanno affrontate da chi sa fare, da un avvocato esperto, specialista un avvocato che sa sicuramente gestire un momento difficile pensate per esempio a quelle infedeltà che addirittura possono essere scoperte dai social network c'è qualche improvvido traditore che pubblica sotto mentite spoglie con un profilo falso fotografie con l'amante, guardate non avete idea quante ne abbiamo viste quindi anche sulla scorta dei dati della mia associazione che presiedo l'associazione avvocati matrimonialisti italiani almeno nel 50% dei casi un matrimonio finisce perché uno dei due ha tradito